Prof, ho studiato Sfera e basta! Ok, vero nome? Gianluca Boschetti. Dov'è nato? Roma. Quando? 7 dicembre 82. Quanto è alto? 1 metro e 91. Come è diventato famoso? Ha vinto amici di Maria De Filippi. Che squadra tifa? E tifoso dell'Inter. Ma no, è tutto sbagliato. Scrivi tu le risposte corrette.